...degli grandi paesi dell'America, i conflitti dell'estensione razziale, dei movimenti dei diritti civili e che portano in un riguardo personale e originale che non si arriva mai all'amore della persona e anche per questo che il suo cinema è importante e necessario. Adesso il primo sta a dire, è un'unica di spazio. Grazie. Grazie. Applausi. 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 Grazie. 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 Michael Jackson, Lisa Spada. And to the time we hear, we hear Kevin St. Dan's school so, to see the world premiere of Michael Jackson's bad, bad number five. Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.